il Fatal 4-Way mi è piaciuto è stato una mezza confusione generale però è stato carino è stato divertente è stata carina anche come ha chiuso il match ronda penso che sia stata abbastanza originale come cosa ecco la cosa che vorrei sapere al di là se ti è piaciuto meno l'incontro a 4 è se può essere veramente l'inizio se veramente questi cinturi di coppia hanno preso iniziano a prendere lentamente il volo essere un minimo importanti perché comunque vengono profilate spesso, vengono difese spesso inizia a esserci qualcosa non come prima che le vinceri erano soprammobili che rimanevano lì per anni e anni quindi ti volevo chiedere se vedi un miglioramento in tutto ciò ecco queste cinture qui finalmente riescono a diventare un minimo rilevanti beh diciamo che allora che le cinture sicuramente vengono difese di più e non c'è e Triple H non ha questa idea di fare le faide di coppia dove prima di arrivare al match titolato cioè fare gli incontri singoli tra i membri del team che a me è una cosa che non è mai piaciuta da lì al fatto che sono importanti cioè sicuramente un po' cioè ecco rispetto anche al passato più più recente cioè alle damage control che poi praticamente non l'avevano l'avevano difeso anche abbastanza poco dopo che avevano riconquistati in Arabia sì però cioè sulla divisione femminile cioè io penso che la Davide B abbia un po' mollato il corpo anche Ronda Rousey in un'ultima intervista che sta girando adesso ha detto cioè io vedo una cioè io vedo una un cioè un un Triple H che nel caso della del del cioè che con le donne fa un po' il furbo perché cioè a Night of Champions c'erano tre match femminili però non hanno una storia cioè avevano poche cioè però il tempo televisivo comunque dedicato ai match femminili durante le puntate settimanali rispetto all'epoca Vince si è ridotto cioè si è ridotto proprio andando a misurare cioè andando proprio a a a cronometrare quindi sì un pochino le 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 gli sta profilando un po' di più c'è c'è rispetto all'epoca di cioè di Vince però non lo so anche perché Ronda Rousey e Shira Beser che sono entrate cioè David ha inquadrato il pubblico cioè da lontano cioè quando è partita la musica di Ronda non si è alzato nessuno cioè Ronda Rousey cioè le dà il titolo cioè a Ronda Rousey ma poi per quante puntate sarà lì cioè queste qua cioè non mi sembrano cioè a me sembra quello di dare il titolo a Ronda e Scena una cosa che dovevano fare perché probabilmente Ronda Rousey ha per contratto che deve vincere determinate coste però non vedo ecco poi c'è questa cosa di positivo c'è Shozzi che a me nelle ultime due uscite è piaciuta e poi vabbè che il match era è stato sufficiente niente di niente di eccezionale però vedere Bailey che viene usata in quel ruolo lì cioè oramai da personaggio super secondario mi lascia un po' mi intristisce un po' cioè è vero che se dopo l'annata che ha fatto nel 2020 avesse a me a 38 no scusate 37 ti lasciano fuori e non ti danno un match è un po' è un po' vedere come venga realmente considerata dalla dalla dirigenza però è brutto vedere Bailey ridotto in quel modo lì e Ronda Rousey che quando quando rilascia le interviste dice bene però poi di concreto fa veramente poco cioè sì può essere che ci sia una maggiore profilazione dei titoli però io non vedo cioè in generale c'è la divisione è inutile che da quando c'è AAA ci ha mollato il colpo con le donne e non credo che adesso in questo modo ritorni in interesse anche perché su Ronda Rousey oramai c'è questo pregiudizio negativo che è un po' difficile riuscire a togliere allora intanto vi ho fatto partire il sondaggio su quante rotule date all'incontro che all'incontro a quattro che si è svolto a Roo e volevo anche far notare due messaggi che sono arrivati uno totalmente opposto rispetto all'altro una di Erfero a me è piaciuto anche Siozzi si è rifatta e il commento subito dopo di Greg Siozzi ha sbagliato tutto quindi è bello perché c'è una certa varietà e poi soprattutto siamo tutti allineati è il bello del wrestling questo e vorrei dire una cosa però su Ronda prima di lasciare la parola a Emma Ronda adesso non viene considerata pari viene considerata alla pari di Shaina Butler come lottatrice come come presenza diciamo perché è lei che ha voluto così cioè è stata lei a volersi abbassare per far crescere le altre e secondo me è un merito che va dato a Ronda perché Ronda funzionava tantissimo quando era gestita diciamo alla Brock quindi come nel suo primo anno in WWE cioè arrivava spaccava tutti e via con un'altra rivalità e adesso lei è una non dico una delle tante però è più battibile si è messa più a livello delle altre e questa cosa qui purtroppo non gliela riconosce nessuno gliela riconoscono in pochi perché nessuno come lei si sarebbe messa su quel piano lì o avrebbe accettato o si sarebbe proposto o avrebbe accettato quel piano lì cioè se tu secondo me chiedi a Brock di fare un incontro tag team per sollevare la divisione con Shelton Benjamin visto che sono da quello che mi ricorda amici o comunque hanno fatto un percorso assieme quindi tu dici vai da Brock e gli dici fai te Shelton Benjamin contro Kevin Owens per tenerti le cinture di coppia per risollevarle tutto per me Brock ti dice si si ciao io ritorno là a fare il cacciatore a fare tutte le cose che facevo prima vado a fare l'orso della paluda ecco capito esatto Max Junior come scrive il nostro amico Max Junior l'hanno umanizzata esatto e secondo me questa cosa qui non non gli viene dato non gli viene riconosciuto questa cosa qui e mi dispiace perché non tutti al suo posto avrebbero fatto quello che ha fatto lei non so se te ma sei d'accordo con me non avesse preso e raccolto il prestigio di stare ai primi posti questo ragionamento l'avrei fatto pure io dato che credo si sia divertita le sia piaciuto avere la cintura massima addosso essere profilata sia come face che come heal distruttrice come brock e via dicendo diciamo che è anche facile poi retrocedere vendendola come un gesto di umanità quando magari potrebbe essere un'ovvia conseguenza del rigetto del pubblico però volendo essere un po' meno cinico come il mio solito diamogli diamole del buono ok è stata umanizzata adesso è vero io per come sono io la vedo meglio qua nel senso che non deve fare grandi promo cosa di cui non è capace non deve fare non deve occupare grande minutaggio nella puntata dove è ovvio rischiare il crollo del pubblico cioè il rigetto il watt continuo quindi se fa questo poco male può far pochi danni a Ronda io non riconosco quelle skill necessarie per stare in WWE che tu sia ai piani alti che tu sia Charlotte o che sia Shotsy mi auguro di no in questo caso comunque un minimo lo devi avere un minimo per saper stare al microfono però se sei nel tag team e fai quella che picchia e non parla quella cattiva dura concreta va bene il problema è tutto quello che c'è stato prima con Ronda stesso discorso di semi zain che vogliono vederlo che si libera dalle cinture e che prima te lo gonfiano te lo gonfiano tanto e poi lo vedi abbassarsi è un problemino questo qua perché non ti scordi che prima era in alto quindi se Ronda avesse debuttato qua e fosse rimasta qua su questo livello medio poco male nessuno si sarebbe arrabbiato se avesse sbagliato un promo se fosse stata un po' disordinata nelle manovre se non si fosse capita con l'avversario con la partner pazienza tutti gli altri avrebbero detto vabbè dai tag team via come spesso si perdona Shotsy per le inesattezze che ha fatto anche in questo ultimo match di Raw non so se ricordate prima del suicide dive se guardate intorno vado non vado signor Renzino cosa vado prego venga qui dove va cioè c'è stato quell'attimo di imbarazzo che poi ha saputo risolvere brava dopo però guarda caso capita sempre a lei questo tipo di indecisione come se perdesse la bussola ed è giusto che una così per il mio modo di vedere non deve starci perché è un errore piuttosto grosso ma volendo essere generosi è giusto che stia a quei livelli lì medi stessa cosa ronda c'è il blasone che le permette di essere perdonata sugli errori ma non vedo grosse differenze con Shotsy scusate se sono cattivo se la sparo grossa ma per me i livelli parlando di questi sono quelli lì sì perché dovrebbe essere migliore di Shotsy sicuramente Shotsy di wrestling recitato di wrestling intrattenimento ne capisce più di ronda dovrebbe da quando è bimba è appassionata di questa disciplina di questo mondo la seguita è praticata sin dall'inizio ronda ha fatto altro quindi secondo me sulla carta ronda è anche meno preparata di Shotsy poi c'ha quella credibilità da picchiatrice e tutto il resto però insomma il mio problema con ronda è che è stata ai piani alti e che ha fatto delle figuracce che non dimenticheremo cioè con Roman Reigns stiamo dimenticando le figuracce anche interpretative perché era scarsetto all'inizio ma soprattutto di scrittura perché ora c'ha un personaggio della Madonna c'ha studiato e migliorato gli hanno scritto e centralizzato praticamente tutto quindi forse forse riusciamo a dimenticare lo schifo di qualche anno fa è con questa qua come te lo dimentichi non è che stia facendo grandi cose no no è vero però vi chiedo vi faccio una domanda con risposta secca anche perché dopo abbiamo due argomenti belli belli lungotti secondo me ronda con a fianco un poleman poleman può essere anche cioè un altro con un manager alla poleman sarebbe un grosso miglioramento per lei cioè la farebbe la rie eleverebbe come dominatrice oppure no è troppo tardi no è troppo tardi anche perché io cioè non credo questa storia che lei abbia detto accetto cioè ha fatto un passo indietro perché è stato un flop cioè l'hanno riportata indietro ha fatto un flop clamoroso anche per come l'hanno proposta anche perché per come è stata proposta cioè è stata immediatamente rigettata e cioè alla fine c'è un passo indietro era 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 obbligatorio e forse se ne ha reso conto anche lei con un poleman cioè non cambia niente perché non credo che ci sia qualcuno che che la voglia che la voglia rivedere al top cioè oramai se la se la sono giocata anche perché cioè il ritorno hanno sbagliato i tempi perché Becky era perché la gente voleva vedere il match uno contro uno con Becky Lynch Becky Lynch era impiegata con 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 Bianca Belair l'anno scorso e dovevi fare quel match perché avevi avevi iniziato la storia e Becky e eronda contro Charlotte non è il match che vuole vedere il pubblico è il match che vuole vedere e l'hanno bollata così lei un po' ci ha messo del suo con delle prestazioni non molto non molto buone però cioè il problema è stato quello come è ritornata come hanno impostato quella quella Royal Rumble come hanno impostato la Pai da con Charlotte il famoso sarò la prima a sottometterti quando Charlotte ha perso 200 volte per sottomissione ecco quella non è un cioè è un qualcosa che dici no e poi il match di Western Media è uscito malissimo e non ha certamente aiutato quindi no non vedo un po' Leiman cioè un manager un manager come poteva essere MVP per dire un manager non cambia niente per te Eman? allora punto primo Paul Eman finita la storia con Roman deve venire a casa mia e farmi da padre perché credo che i tempi siano maturi io non ce la faccio più a vivere senza di lui deve starmi a fianco guidarmi darmi consigli anche cazziarmi quando sbaglio io voglio Paul Eman nella mia vita chiedo troppo scusate ma a parte questo non ci vedo proprio Paul Eman cioè immaginate davvero che lascia Roman Eman Eman per dire un nome cioè puoi metterci in mezzo in VP cioè comunque Ron Rouse con un manager no 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 anch'io non gli vedo il manager a fianco non le vedo il manager a fianco perché teoricamente ne ha bisogno teoricamente sì però ha già fatto danni magari non volendo magari ci sono mille mille scusanti però ha già fatto danni poi che fa Ronda col manager a fianco che parla che sia anche Zelina Vega anche un manager donna no che fa saltella come Brock così mentre il manager parla no è bruttino è distonante con tutto quello che sappiamo poi WWE punta sulla amnesia generale del mondo è vero però fino a un certo punto quindi per niente per niente no 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 deve stare qua se è necessario che stia in WWE lui deve stare qua tag team e buonanotte via e buonanotte